Il prossimo pezzo è un pezzo che parla delle donne e dell'alcol. Ovviamente non sono tutte cose inventate, cose che sentiamo da amici. Insomma, si intitola The Women, The Malcol. Maledette donne, maledetto alcol. Non bevete. Anzi, quando siete qua bevete. Ma che dopo... Ma dopo andate a casa piano, mangiate una patata lessa, una frittura... Fate un bacio a vostra moglie. Sì. Sì 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 Che amarlo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh